Lunetta Savino ha le fate ignoranti, che ricordo hai del film di Ferzan Ospete? Bellissimi, bellissimi, uno dei momenti in assoluto, periodi più belli della mia vita, oltre che della mia carriera, Mine Vaganti. E anche Saturno Contro, ma Mine Vaganti in assoluto. Invece secondo te qual è l'insegnamento che ancora oggi hanno portato le fate ignoranti che ritroviamo in questa serie? La libertà di pensiero, l'apertura verso un concetto di famiglia che va oltre la famiglia di sangue, quindi è il massimo della libertà. Il studio Battaglia è stato un grandissimo successo su Re1, ti aspettavi questi ascolti, come li hai raccolti tu con le tue colleghe, vi siete sentite, come avete festeggiato? Non abbiamo ancora festeggiato, questo non va bene, però sì, ci siamo sentite, siamo tutti molto molto contenti perché è una serie di grande, come dire, credo attualità, eleganza e abbastanza insolita. Con la produzione avete già parlato della seconda stagione, i fan lo hanno chiesto, la aspettano? I fan l'aspettano e quindi tocca farla. Grazie.